La mia volontà oggi, ho organizzato questa manifestazione insieme a Enzo, è quella di ricostruire il PD e di costruire un PD diverso. Deve cambiare il metodo, deve cambiare il modo di gestire il Partito Democratico. Questo metodo e questa gestione, per troppo, ritengo, in parere mio personale, che ha portato questo risultato. C'è stato uno scollamento totale con il territorio. Sinceramente la mia volontà questa sera è che deve discutere la base del partito. Siamo tutti iscritti e siamo tutti uguali e penso che da loro deve partire la nuova proposta per una nuova identità del PD. Come potete vedere dal documento, in realtà c'è stata stasera soltanto una convocazione. Non mi arrogo il diritto, ed è quello che secondo me è stato l'errore fino ad oggi, di fare una proposta. Ritengo che tutti quanti insieme la dobbiamo fare. Grazie. 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 Grazie.